Luce e ombra sarà questo gioco di raggi a rendere ancora più misterioso l'obelisco egizio di Piazza Papiniano. Attesissima questa sera l'illuminazione artistica realizzata dal light designer Filippo Cannata e sponsorizzata dall'imprenditore Diego Della Valle, che per l'occasione sarà presente alla cerimonia insieme al sindaco Clemente Mastella e al soprintendente Salvatore Buonomo. 25.000 euro questa, la somma donata da Della Valle, utilizzata per completare il percorso di illuminazione artistica che sta riguardando i diversi monumenti di Benevento, da Santa Sofia all'arco di Traiano e fino alla fontana di Papa Orzini. Torna dunque in città il patron di Tods dopo la laurea onoris causa che gli è stata assegnata dall'Università del Sannio nello scorso maggio. Anche a Benevento dunque il suo impegno per l'arte e la cultura. Ricordiamo infatti i finanziamenti dell'imprenditore destinati al restauro del Colosseo e il sostegno al teatro alla scala. L'obelisco egizio di Piazza Papiniano sarà così valorizzato e le sue immagini voleranno in America, lì dove c'è già il suo gemello normalmente custodito al Museo Egizio di Benevento e attualmente ospitato al Ghetti di Los Angeles. In California l'obelisco sarà restaurato per rappresentare il pezzo d'eccezione di una mostra per poi tornare al suo posto il prossimo anno.